Con Mr. Chirotto, dopo il ritorno dei sedicesimi giovanissimi nazionali, al di là del risultato, al di là del doppio confronto, parlo della stagione in toto, penso che sia da ricordare e si debba andare orgogliosi di questa stagione qua per il latino. Sì, sicuramente sì. Ne parlavo adesso con i dirigenti che all'un certo punto paghi delle cose per le quali ancora non sei preparato. Fino a dove eravamo preparati abbiamo fatto bene, non ci hanno mai dominato. Adesso chiaramente il livello si stringe, inizia ad essere assoluto e abbiamo fatto qualche difficoltà. A parte il risultato, saprò delle difficoltà oggettive. Fermo restando che credo che la mia squadra nel doppio confronto esce comunque a testa alto. Assolutamente ci ha provato, è andato in vantaggio. Forse in quei cinque minuti di sbandamento del Milan poteva approfittarne. Poi una volta che il Milan è tornato a giocare, più o meno come sa, è stato un po' più difficile. Sì, sì. Questa è una prima cosa. La seconda è quella di non poter aver chiuso il primo tempo su 1-0 e tentare una nuova accelerata i primi due del secondo tempo. Il gol loro è chiaro che ci portava nella condizione di iniziare i contatutto. Dovevamo fare quattro gol. Per quanto uno non ci vuole pensare, tenta di vincere la partita contro un avversario così, paghi. Assolutamente. Il bilancio stagionale quale può essere? Il bilancio stagionale di questo gruppo è un gruppo che merita assolutamente riconferme, rafforzamento perché ha all'interno dello stesso delle grandi potenzialità. Quindi sicuramente la società non si farà scappare questa occasione di arrivare secondo me nel giro di 2-3 anni ad avere un gruppo che potrebbe giocare alla pari anche eventi del genere.